Dopo le due settimane di sosta per le nazionali, periodo in cui non si sono giocate partite della Serie A femminile, la federazione ha provveduto a rinviare anche la gara tra Cassa Rurale Pontinia o Derso, che era prevista per domani, valevole per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di pallamano. I casi di covid che avevano interessato alcuni atleti della formazione di Pontinia nelle scorse settimane hanno indotto a utilizzare il metro della massima cautela, nell'attesa che la situazione tornerà a normalizzarsi ed è per questo che è stato rinviato anche il match del campionato di Serie A 2 femminile in programma domenica prossima tra Pontinia e Fidaleo Fondi, il derby pontino. La linea della cautela è quella più corretta in questo momento, ci sono ancora alcune giocatrici che pur non avendo sintomi particolari non si sono ancora negativizzate, ha spiegato il presidente della Cassa Rurale Pontinia, Mauro Bianchi, quando la situazione lo permetterà, rispettando tutte le regole, oltre a quelle del buonsenso, torneremo a lavorare e ricominceremo a pensare al campionato. Al momento la Cassa Rurale Pontinia occupa il sesto posto in classifica ma con 17 gare giocate, diverse in meno rispetto a chi la precede in graduatoria. In A2 femminile Pontinia ha sei punti, mentre le rosso-blu fondane sono ultime ancora a secco di vittorie. Regolarmente in campo la Banca Popolare di Fondi in Serie A maschile, la formazione pontina ospiterà domani in Molteno per la settima di ritorno dopo il bel successo di mercoledì a Siena. Fondi occupa attualmente il quarto-ultimo posto in classifica.